Poi io non voglio essere nei panni di chi dovrà mettere a posto questo casino, ma andiamo fuori dall'astronave Posso far respirare il nostro protagonista? Bene Ok, è a posto Calmini tutti Così può andar bene Ok Poi, e se fa strano? Cadavero umano Cadavero umano Portello psicotronica Cadavero umano E nemmeno usiamo un cavo Ok Vediamo di raggiungere un po' i cadaveri che ci sono in giro per la nave Bello il solo a basso pixel Buongiorno Qui c'è pure la terra E boia Facciamo Talos molto più grande Lei era il deficiente che vedevo da fuori? Salve Ah sì Tra l'equipaggiamento Oltre che munizioni Mentre questo main trail of camera Ho provato 18 kit balistici Credo siano i kit balistici Medikit E poi ho provato Una granata riciclante Che è una sorta di buco nero portatile Chiamiamolo così Un'esca typhoon E altre granate mp Organizzato Dottor Calvino Ok L'hai trovato Non mi sorprende Ceneri Da quanto tempo? Ok torna su Lì c'è un portellone mezzo aperto Mezzo chiuso Con un paio di granata mp Che prendo molto volentieri Exterior Breach Detected Beyond This Point Gas 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 Eeeh Troppo veloce Eeeh Calmino Aii No No Amo questo gioco Ma Dal piano di sopra Ma serio e serio Sai Ok ci siamo Eee Fermi Qui c'è qualcosa Perciò noi prendiamo Qui c'era un medikit Kit medico Vabbè C'è un cavo di energia Che porta qui Aha Test fase Ok Ora devo fare Lacker professionista Aspetterò che January Mi dice qualcosa Oh Let's go Bel lavoro Morgan Gli schermi riflesso Sono di nuovo connessi Appena puoi torna nel tuo ufficio E' importante che tu senta il resto del messaggio Ci vediamo lì Come va tu Mentre Tiriamo fuori il cannone glue Allora Perché Dai 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 che non c'è visto Dai che non c'è visto Dai che non c'è visto Ok Ora spero che non spawni nessun altro Da quest'altra parte Perché se no sarebbero molti seri problemi Uno Due Tre Ok No Perché Perché Gioco cosa ti ho fatto di male Ti prego dimmi che posso accederci anche dall'alte Da un secondo passaggio Ti prego No La chiave Aia 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 Mi sembra che dobbia affrontarcelo E' Il problema è che io Quel fetente E quel tipo di fetente L'ho già affrontato Perché ci sono gli specchi normali Gli specchi invocati Che ti generano del fuoco da sotto i piedi E questi specchi che si moltiplicano Quando vengono colpiti Non mi hai visto Non mi hai visto Non mi hai visto Apriti Apriti Corri Via Togli E cosa sei tu E tu cosa sei No 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 Non entrate qui dentro Tira gli oggetti Questo è più furbo degli altri Adios Adios No Ce n'era un altro Apriti No Si pallano uno e l'altro Via sopra l'esperienza Che se tiro loro una bombola Muoiono prima Tazze Sono tutta una menzogna Strumenti Riprendi Se mi spunta Se mi spunta da dietro il deficiente adesso Mi arrabbio Ok Ciao Grazie Devi distruggere Talos One La ricerca I Typhoon Non deve restare nulla Ok Compreso te So che sembra folle Ma sai cosa possono fare quelle creature Si Ora fanno parte di te Se una cellula arriva sulla terra Sarà la fine Mi spiace Non c'è un altro modo Sarà genuari a guidarti nella procedura di autodistruzione Alex proverà a fermarti Non accetta il fallimento Troppo orgoglioso per tornare da mamma e papà da perdente E voglio dire Siete asiatici Quindi tocca a te Auguri Non ti è piaciuto eh Farò finta che per il protagonista Sia importato Perché morire dal protagonista E non io Però Mettendoci nei panni Ha senso Si Ha senso Parla con Genuary Di solito mi parla al telefono Sono Genuary 2035 Sono un operatore Ci sono altri operatori a bordo di Talos One Ma nessuno come me Già Hai la mia memoria voglio dire Sono il tuo piano B Il mio primo incarico era di liberarti dalla simulazione Il secondo era di assicurarmi che guardassi il video Sono stati completati E il terzo? Interessante Sono disponibili nuove direttive Oh E da chi? Il protocollo di autodistruzione di Talos One È attivato da due chiavi di innesco Oh Tuo fratello ha la prima Tu avevi la seconda Uccidiamo mio fratello Alex ha distrutto la tua chiave di innesco Ma tu hai nascosto i progetti di assemblaggio Per crearne un'altra nell'archivio È lì che dovrai recarti Fatto questo Penseremo alla chiave di Alex I Typhoon si diffondono rapidamente Morgan È una corsa contro il tempo E contro tuo fratello Questa chiave magnetica Ti darà accesso all'ascensore principale E a tutti i laboratori Ce l'avevi sin dall'inizio Scusi Nello scorso episodio Esimio mi ha detto Che non Che non poteva darmela O meglio che non ce l'aveva Non posso riparare l'ascensore da qui C'è un'altra strada Che passa dal laboratorio di psicotronica Morgan È lì che i Typhoon Hanno rotto il contenimento Fai attenzione Ah sì Prossimo argomento Mi hai chiesto di fornirti Altre neuromod E l'ho fatto Mentre sei via Cercherò altre neuromod Utile Ok Quindi Neuromod Abbiamo pre-neuromod Come le possiamo usare Allora Migliorare tutta la crassa Ar aumentando lo spazio alimentario No Smantellamento Scompone l'equipaggiamento Del tuo inventario No Asperto nella riciclatura No Aumento la salute A 150 Aspettativo di aumento Aumentato ai 25 anni No Aumento del tuo vigore A 125 No Aumento la velocità Generale Che corretruma Effortivamente Scatopi velocemente Al 25% Si potrebbe pure fare Ma adesso No Incrivo uno stato di fuoco Su combattivo No I nemici impiegano più tempo Per individuarti Dov'era quello della forza Ah ok Mi serve un'altra neuromod Ah bene Ah deviazione Nuovo obiettivo Gioia Tu eri lì Ne sono sicuro Però vi sapete pure Morire da soli Quindi in poche parole Il nostro fratello Ha distrutto La sua chiave Di autodistruzione Perché è troppo fiero Ed asiatico Per tornare a casa Mani nude Io ho Dove ho visto Bombola Miglior amica Dall'uomo Forse riusciamo Ad evitarlo Va bene Va bene Salve Morgan Finalmente parliamo Live Il mio nome in codice È December Ho il compito Di aiutarti A lasciare Talos One So che la tua memoria È piena di vuoti Ma hai lasciato istruzioni In caso di fuga Typhoon Alex ha una capsula privata Hai fatto una copia Della sua chiave di lancio E l'hai nascosta Nella divisione neuromod Insieme ad alcune scorte Ti invio la posizione Sulla mappa Ti contatterò Quando avrai trovato La chiave Una fantasia Con i nomi Il nostro protagonista Prova da riparare Dov'è che non lo vedo Ehi sotto No Attenzione La direzione Ha dichiarato Lo stato di alletta Poi Egliene ho tolta di vita Ma quanto Sei brutto Mori Mori No 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 I refuse I refuse Sei corrosivo Ok ho capito Sei corrosivo Fa danno anche a me L'esplosione Va danno anche a me l'esplosione So che la tua memoria So che la tua memoria è piena di vuoti Ma hai lasciato istruzioni In caso di fuga Dei typhoon Alex ha una capsula privata Hai fatto una copia Della sua chiave di lancio E l'hai nascosta Nella divisione neuromod Insieme ad alcune scorte Ti invio la posizione Sulla mappa Ti contatterò Quando avrai trovato Ho sentito parlare Leggermente in italiano Oh oh eccolo Attenzione La direzione ha dichiarato Lo stato di allerta Tutto il personale Deve raggiungere I punti di raduno E attendere ulteriori istruzioni Ti ho ucciso Ok Rimane la sostanza corrosiva Dove sta? Posso andare in psicocronica? Allora Il mio obiettivo era Quello di scendere Obiettivo C'è di psicocronica? Sì Ok Andiamo Guts Il Guts è C'è un triangolo La psicocronica È tutto fuorché sicura Morgan Che cosa cerchi? Qualcuno ti sta aiutando È forse Michela È la Zara? Voglia Riesco a intercettare I messaggi di tuo fratello Per una volta Sono d'accordo Genuri Devi cercare un portello Di manutenzione Per le gallerie tecniche Chiamate Guts Ti porteranno in cima Alla stazione La musica è diventata Leggermente creepy Stazione di sicurezza Bagno delle femmine Sì Scusi Non volevo disturba Non volevo disturbarla Mentre facevo la doccia Scusi Bombole We need bombole There are no bombole We are We are leggermente Poglia Ogni tanto Li sento parlare Tipo in italiano Allora Dovrei poter Bloccate No Troppo movibile Integrità Integrità tutta Danneggiata Bloccali sul posto Usando il claw O la pistola Stordente Impedisci Di usare i poteri Con i trasmettitori Null wave Ho l'abilità shock Ho l'abilità shock fisico Usare granata mp Per storiare nemici robotici Quando sono inibiti O disattivati I nemici subiscono danni extra Cosa sarebbero la metà delle cose Che mi hai nominato? Poteri? Nessuno mi insegna di poteri ancora Ehi Senti Ok Almeno così Lo uccidiamo Leggermente Prima Ehi Ho appena Ucciso Tu cugino Non sarai tu A farmi fuori Leggermente Subito danni Chietti di riparazione Vai Meno male che ora posso curare Che il 100% di me Serva Se incontro qualcun altro Non credo finirà molto bene Per lui ovviamente Bagno Per le donne Ma senza donne Questo non va bene Abbiamo un'alta carenza di Di donne nel personale Ah ok Potevo farmi il giro Fermi Non c'è nessuno Ad agli uomini Beh qualcuno c'era Perché dovevo toccare? Medikit Però la musione in sottofondo Non mi piace per niente Lì c'è un po' Ok Era una grappola Era una grappola Era una grappola Era una strama Maledetta grappola Funzione per il fucile a pompa E ancora No no Un fucile a pompa Era una grappola Era una stradanatissima Rappola C'è lì dietro Container Container Neuromod E un chip E cosa sarebbe questo? Nuova parte del nostro equipaggio Uh Oh Lo psicoscopio è stato una rivoluzione Neuromod È la tecnologia più importante Su Talos One Usalo per scansionare gli organismi Typhoon Se vuoi comprenderli meglio A proposito L'hai inventato tu Bellissimo Psicoscopio Accedi e spegni lo psicoscopio Con Z Per tracciare Scansionare i nemici Nella vicinanza La scansione di Typhoon Rivela nuova abilità acquisibile Installando le neuromod Oh This is very good Sta la chip E anche questo Questo permette le induzioni Mimina nascosti Oh Dono psico Aumenta la tua riserva Psia 150 Oh Telepatia Aumentiamo la hacking D'accordo Morgan So di non poterti fermare Ma se non mi ascolti Finirai per morire Devi calibrare il tuo psicoscopio Prova a scansionare gli esemplari di Typhoon intorno a te Ottenuti abbastanza dati I laboratori si apriranno Cosa più importante Potrai installare neuromod basate sui Typhoon Diventerai inarrestabile Grazie Era questo il nostro obiettivo Morgan Hai trascorso tre anni della tua vita Per capire come integrare le loro capacità in noi Lo hai solo dimenticato Ehi Mimica a 18 metri Utile Forse Possiamo applicare i vecchi metodi Del cannone Quella Ok Ricerca sugli alieni Bene Ti invio il codice di una cassaforte Nell'ufficio del direttore Kestrap Credo abbia nascosto delle neuromod Usale per installare una delle abilità Typhoon Fallo E forse vivrai abbastanza a lungo da rivedere la mia faccia Forse Ah Nuovo oggetto Pure L'hai trovato? Trasmettitore null wave Sviluppato in psicocronica Trasmettitore null wave Smette una rafica di segnali Che ne abiliscono l'abilità psiche Che vi viene colpito Per un breve periodo di tempo Non ho nemmeno capito cosa sia L'abilità Aspetta Forse ho capito Ho sbloccato il portellone Che quasi sicuramente condurrà verso l'esterno E posso entrare Ma magari no Ah questo è un nuovo tipo Mimic superiore Non è affascinante C'è qualcosa di angelico in quei filamenti dorati Come fossero luce congelata I Typhoon ni creano dal nulla La domanda è Perché? Abbiamo varie teorie Ma nessuna risposta Non ancora Vorrei che fossi con me Morgan Non come sei adesso Ma come eri una volta So che insieme potremmo farcela Come ai vecchi tempi Proseguiamo Basta con quest'allarme Non ne posso Salve Osserva bene Tutto quello che sta accadendo su Talos One È cominciato qui All'inizio Eri così Entusiasta Il mio errore è stato quello di porti al centro dei test È lì che hai cominciato ad allontanarti da me Manca poco a capire cosa cercano Cosa stanno costruendo Mi serve solo un po' di tempo Riesco a sentire il tessitore attraverso le pareti Il figlio di puttana gongola lo sento Tu come stai? Ho piazzato un paio di lampade per attirare gli spettri Ho messo note adesive su ogni oggetto che non sia un mimic E tu? Tutto ok Sono nell'armeria Ho schiacciato un mimic che era entrato ma non c'è altro Mi sono chiuso dentro Qual è il piano? Attendere i soccorsi? Sai Se ne usciamo vivi Alex ci rimuoverà le neuromod Vuoi ricordare questa merda? Credo che potremmo uscire dal Guts Risalire fino al giardino botanico Ah c'è per un giardino botanico Ok Quando vuoi Bene Direi che con il tessitore noi possiamo anche chiudere Lei cosa dice tessitore? Vabbè lui balla Bene gente chiudo qui il video Ci vediamo al prossimo episodio Grazie a tutti Grazie a tutti